prof, puoi scrivere una penna? si Ale, hai una penna? prof, sono senza penna non la mia, aspetta grazie Gio, Moller grazie Oh erano, i due giornalatori del partito bene bene in quanto fa? 60 oh i loci oh matto io riesco a lavorare beh raga, ma te, cioè fate insieme, fate insieme un po' poverino no no, non gli diamo niente marco, dai una patatina tanto guarda macromare ok ragazzi, adesso io passo per prendere i soldi della cina marco, ce li hai? si marco? ah, i 10, ok, 15 te, Ale, ce li hai? io, prof grazie ok, bravi ragazzi a posto grazie 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 grazie